Eccoci qua al 21 grammi in Via L'Italia, numero 13, Brescia. Cosa ci aspetta, caro Gabriele, il 14 dicembre? Il 14 dicembre alle 8 e mezzo con tortelli... Che follia! Che follia! Tortelli che follia, lo chef. Ciao chef. Buongiorno a tutti, vi aspettiamo. Avremo dei tortelli artigianali, fatti a mano, sfogliate a mano, chiusi a mano. Spettacolare, venite a provarli, la compagnia è sempre bella, ci divertiamo, mangiamo bene e ci scambiamo gli auguri di Natale. Chiusi? Una serata che follia con i nostri sponsor Agripasta, Agroittica e l'Isola delle Rose. Eccoci qua, vi aspettiamo al 14 dicembre ore 20 e 30 al 21 grammi. Tortelli che follia! Vi aspettiamo! Ciao 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 ciao! Grazie a tutti!